Per il Capricorno invece questa è una giornata magari non entusiasmante, ma che non prevede grosse difficoltà. Ecco, dovete limitarvi un pochettino a quella che è la normale amministrazione, la routine di tutti i giorni, che però può portare grandi risultati, perché sul lavoro voi siete molto attivi e anche nelle situazioni più banali avete sempre un lampo di genio che vi permette di ottenere dei successi, anche economici. Andiamo al...